Esiste solo la vittoria, la vittoria. Non c'è fallimento, non c'è farò meglio domani. Hai fatto il massimo oggi. Sei andato a cercare i tuoi limiti? Sì, sei dato il massimo. Il massimo è credere, credere un passo ancora, un passo ancora. Sei arrivato a 81 chilometri, sei arrivato alla tua vittoria. Poco importa che ne mancavano altri 90. Chi lo dice che una gara termina all'arrivo? La gara non finisce mai, è solo una tappa, una tappa per portarti ancora più avanti, 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 avanti ancora. Puoi essere fiero di te, caro Olivier, perché questa Swiss Peaks, questa maglietta, me la sono meritata. Ho sudato per 24 ore e 40 minuti e poco importa che l'arrivo era a 170 chilometri. Io sono arrivato a 81 chilometri e 81 chilometri e 6200 metri di dislivello positivo e negativo sotto l'acqua, tra le rocce, a 2600 metri. Ore e ore di dolore nelle gambe scendendo da quelle montagne che ringrazio. Questa per me è una vittoria. Non sono uno di quelli che passa la giornata a correre, allenarsi e viene pagato per fare quello. Oltre la corsa c'è la famiglia. Ci sono le persone che incontri a cui vuoi bene dal primo istante e che dai la parola giusta al momento giusto. C'è solo la vittoria. La vittoria te la guadagni ogni secondo che sei vivo. Tutto il resto. È vero, caro amico, parli di occhi della tigre da tirar fuori, ma io tiro fuori i miei occhi. Occhi che vedono lontano, occhi che si nutrono di un sogno. Quel sogno che mi fa alzare ogni giorno è quella fede in quello che faccio e in come lo faccio. Fede nella vita, nella mia vita, nella esperienza che faccio in ogni cosa che faccio. Quell'insegnamento dopo 81 chilometri nelle montagne del Vallese. Quell'insegnamento ne faccio tesoro. Ho imparato mille cose. Sono un uomo diverso oggi. 24 ore e 40 minuti. Quanto basta? Quanto ti basterebbe? 24 ore e 40 minuti? Per cambiare. Per rinascere. Per rinascere. e ti alzi quella mattina, il giorno dopo, e non sei più lo stesso. Soddisfatto. Soddisfatto è poco. Sono estremamente orgoglioso di me, dei miei figli, tutti e tre. Ognuno che porta avanti nella vita il suo sogno è lì. Forse non lo vedi, ma ce l'hai anche tu. Un abbraccio, una hook. Metti like al video. Iscriviti al canale. A domani. Sul pezzo. Su questo pezzo di terra. Può essere rotondo, può essere quadrato, può essere piatto. la cosa, la cosa non ci interessa. Noi ci siamo. Wow. Noi ci siamo. Noi ci siamo. Noi ci siamo. Noi ci siamo. Grazie a tutti.